Ciao, conosci i fiori di Batch? I fiori di Batch sono delle essenze floreali che sono state usate per quasi cent'anni sulle persone, ma anche sugli animali e quindi sui cani e sono una scoperta del dottor Edward Batch, gallese, che scoprì questo negli anni 30. Era un ricercatore, un batteriologo e ha fatto delle scoperte importanti. In pratica poi questi fiori di Batch sono dei rimedi, delle essenze che sono collegate, ognuno ha un tipo di stato d'animo e di personalità che può riguardare sia la persona che il cane. Io dal 2005 sono competente, esperto in fiori di Batch per cani e questi li uso anche quando le persone si rivolgono a me per richiedere un aiuto per i loro cani. I fiori di Batch non agiscono sul sintomo, vale a dire se la persona mi viene e mi dice il mio cane mi salta addosso oppure il mio cane tira troppo il guinzaglio, i fiori di Batch non agiscono in questo senso, ma agiscono sull'emozione che sta dietro al saltare addosso e al tirare il guinzaglio. Quindi il mio lavoro come istruttore e doatore cinofilo comportamentale e consulente dei fiori di Batch per cani è quello di individuare le emozioni che stanno dietro ai comportamenti del cane, alle azioni e alle reazioni sia del cane che della persona individuando il giusto rimedio o più rimedi che aiutano il cane a ritrovare il suo equilibrio interiore e a portare l'emozione da uno stato negativo in uno stato positivo e quindi aiutare il cane a prendere più consapevolezza di se stesso e delle situazioni. Ovviamente anche queste indicazioni sono anche per le persone perché in alcuni casi è anche consigliabile che anche la persona prenda i fiori di Batch per governare al meglio le sue emozioni, acquisire consapevolezza e trasformare i suoi stati d'animo negativi in quelli positivi. Quindi il lavoro che faccio è un lavoro sulla consapevolezza, sulle emozioni e sulla ricerca interiore in quanto poi il cane viene valutato non come da un punto di vista meccanico ma come un essere unico, completo, completo di corpo, mente, emozioni, anima, cuore. Quindi viene valutato tutto l'insieme. Anche io li uso sia per me stesso e anche per il mio cane qualche volta e anche per i cani che ho avuto e con grande successo. Quindi se ti fa piacere puoi rivolgerti a me. Sono Stefano Pesci, struttore eduatore cinofilo comportamentale ed esperto anche in fiori di Batch, consulente in fiori di Batch dal 2005. Noi toscani tendiamo a dire Batch ma si dice Batch. Quindi saluto da Stefano Pesci e da Sharon. Ciao!